Buongiorno E' in funzione della temperatura e dell'umidità presentato D'estate funziona di più Il ciclo di ingrasso è? 218 giorni 180 giorni Poi i legumi dove li producete? Ma noi abbiamo già 400 ettri a legumi Tra qui e la Toscana Qui facciamo la Sardegna tutta biologica E qui è il portone? Si esatto, invece in Sardegna tutto bio Un'occasione con il sindaco Tagliani per vedere uno dei progetti che stiamo facendo insieme a tante città italiane A Ferrara riguarda il nuovo quartiere attorno alla Darsena Il finanziamento del governo arriverà nel mese di settembre Sapete che c'è stato un bando destinato alle diverse città italiane E quindi a me fa molto piacere una giornata caratterizzata da altre visi del ferrarese Di fare anche una tappa qui per vedere con il sindaco il nuovo progetto per il quartiere della Darsena Collegato anche con il museo della Shoah Ed è un pezzo di un discorso di qualificazione e rammendo delle nostre città, delle nostre periferie Che è una delle priorità del governo Grazie 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 Grazie